Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Spore Galactic Adventures e riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, cioè con il fatto che dobbiamo cercare di riappacificarci un po' con il tempo che vuole con gli Aepox. Allora avete qualche missione per me? In qualità dei membri del Comitato per l'Ossigeno, noi Cooc stiamo cercando di studiare ogni singolo pianeta della galassia, potresti scendere su Rodosa e investigare? Non rinuncio mai a un'avventura, una volta raggiunto Rodosa dovrei scendere in superficie, prima avrei l'opportunità, ok, basta che non mi fanno fare la solita missione stupida di quei plot against us. Qua dobbiamo andare, ottimo, ma non qui... qui vogliono comprare qualcosa, è giusto che... no. Guardate che abbiamo un po' che... Rodosa. E scendiamo, sbarchiamo, e niente. Vei plot against us. Ragazzi, toglierò sta parte per l'ennesima volta, ma io ho cercato su internet, teoricamente dovrebbe esserci tutta una serie di missioni, ma a noi capita sempre solo questa. Rieccoci, stiamo andando a fare rapporto sul pianeta Kira per completare la nostra missione e sono di nuovo contenti. Perfetto. Ci avranno dato anche dei soldi credo. Uh, 105, ottimo. Commerciano, ma prima non volevano un Kaiser di niente, quindi non vorranno un Kaiser di niente. Allora, andiamo dai Hypox per vedere che cosa vogliono dalla nostra vita. Ci manderanno a fare una missione di nuovo... no, scusa, non volevo questo sistema, volevo parlarti. Allora, missioni, avete una missione? Sul pianeta Yold. Qualcosa mi dice che su Yold ci sarà una missione Vei plot against us? Eh? Che ne dite? Ah, però aspetta, andiamo a vedere se i Minor hanno per caso bisogno di qualcosa, desiderano qualcosa. Saluti Minor, è un piacere vedervi. No, non vogliono niente di quello che abbiamo detto. Però un paio di coloni le prenderei quasi quasi. Visto che siamo rimasti senza. Poi scendiamo su Yold e... Ah, Free Points. Ok, questa è diversa. Strano, eh. Allora, vediamo. Enjoy! Ah, è proprio Free Points. Nel senso che è una cavolata unica. GG. Haha, bella. Va bene. Ehm... no. Fare porto al pianeta Cliti. Ok, se non altro abbiamo fatto una missione diversa che era veloce, se non altro, boh. Se non altro non ci fa perdere tempo come Vei plot against us. 60.000 per credit. Perfetto. Allora, loro non volevano un Kaiser di niente. Perfetto. Ah, ma non sono ancora contenti. Sono tristi? Perché? Oh, santi nomi. Perché le astronavi sono incustodite? Ma... Non so cosa Kaiser dire a sta povera gente qua. Vabbè. Eh, senti. Tu state un attimo tranquillo. Noi andiamo a recuperare un po' di spezie in giro. Allora, andiamo a prendere un po' di viola. Facciamo un po' in giro ovunque, così abbiamo la stiva piena di spezie. Possiamo andare a venderla, a fare un po' di big money. Allora, andiamo su Pasilane. Ricopriamo un po' di spezie gialle. 10. Ottimo. Andiamo a recuperare un po' di spezie viola qua giù in fondo. Era viola, vero? Sì. Un po' di spezie viola in fondo. Ottimo. E poi in questo potremmo anche terraformarlo. Andiamo a terraformarlo adesso? Ma no. Andiamo a recuperare prima la spezia e poi dopo pensiamo alle terraformazioni possibili e eventuali. Allora, niente. Loro non vogliono comprare niente delle spezie che abbiamo ora. Allora, io tornerei su alla mia casa, se possibile. Alla nostra base. Il nostro pianeta Tarantella, dove andiamo a prendere 4 di spezie. Quindi andiamo a prendere qua un po' di verde che non abbiamo più assolutamente. Anche questo verde potrei potenziarlo, eh. Effettivamente. Quello verde e quello viola giù in basso non sono una cattiva idea. Qua abbiamo dell'altra rossa, che tanto ne abbiamo in una dose massiccia. 56 di rossa. Qua abbiamo due pianeti, no? Abbiamo Mozos Kings, che tra l'altro vediamo se vogliono per caso comprare qualcosa. Eh, la... Ma già la 11.000 non è malissimo. Potrei ricavarne di più però in realtà, eh. Quindi diciamo... No, c'era anche Armageddon. Scusa, Arman. Non volevo dimenticare il tuo pianeta. Allora, vediamo. Recuperiamo la 10 blu e... Saluti, commercio. Volete qualcosa? Uh, uh, uh. La rossa ha 20.000, non mi dispiace. Potrei ottenerne forse qualcosina di più però. Quindi per ora rimandiamo. Allora, andiamo qua a recuperare dell'altra verde. E vediamo cosa desiderano. Eh, per esempio 29.000, che è un'ottima cosa. Qua vogliono un sacco di cose a buoni prezzi. Allora, io ti venderei questa. Ti venderei questa. E ti venderei anche questa. Ottimo. E abbiamo più di 5 milioni. Non è male. Potremmo comprarci effettivamente il pianeta quello dei... Dei... Come si chiamano? Tempo che vola. Saluti. Allora, commercio. Desiderano qualcosa? No, la verde ha 10.000, non ve la do. Torniamo qua. Su quello credo di non essere ancora passato su quello, vero? Allora, anche là abbiamo tutti e due. Perché questo è quello che abbiamo colonizzato prima. La blu ha 13.000, no, direi di no. Saluti, vediamo cosa vogliono loro. Uh, la gialla 17.000 mi piace, te la vengo tutta. Ottimo, adesso andiamo. Qua forse non l'abbiamo visitato. Non mi ricordo, ma è meglio essere sicuri. Qua ce n'è due. Uno. Eh, desiderano qualcosa qua? No. E l'altro era più esterno. Qua? No, ma non ne avevamo due in questo posto qua, no? Uno solo? Uno solo, sì. E poi andiamo qua dove ci sono quelle rosse, in cui faremo un sacco di rosse. Allora, sì, questa è la 25.000, mi sta bene. E poi qua dell'altra rossa. Eh, no, perfetto. Qua sarebbe ora interessante trovare qualcuno che desidera delle spezie rosse, ma non sarà così facile. Andiamo a vedere se per caso qua desiderano delle nostre spezie. Ciao, impero minor, come state? Tutto bene? Niente, non desiderano niente. Allora, facciamoci un giro un po' più in basso, vedere se per caso qualcuno vuole comprare le nostre spezie. Spezze fresche, spezie fresche. La verde ha 16.000. No. No, 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 no. Posso ricavarle di più. Questo sta essendo attaccato? Sì, attaccato dai... Dagli hypox. Niente, non vogliono un kaiser di niente. Quindi andiamocene da questi hypox qua, per esempio, dove potremmo comprare effettivamente il sistema ora. Saluti, volete qualcosa? No, niente. Quello è sempre loro? No. Andiamo magari dagli impero me, che abbiamo snubbato un po' ultimamente. Quel giallo si sta espandendo. Allora, salve impero me, come state? Ah, ho perso un po' di interesse nelle nostre alleanze. Commercio. Allora, vorrei... Ma sì, la blu a 20.000 non mi dispiace, dai. Vorrei trovare qualcuno che mi compresse della rossa a... Non lo so, mi basterebbe anche... Forse 9.000 mi andrebbe bene, dai. Forse 9.000 la vendo. Grazie per avermi ricevuto. Come state? No, la verde a 8.000 non te la do. Andiamo in un altro pianeta a vedere che cosa desiderano. Spezzi fresche! A 16.000 non è tanto, eh. Contare che ho venduto la blu a 16.000. E la blu mi sembra che sia meno rara della verde. Credo. Spero, non mi ricordo. Saluti, è un piacere vedervi. Cosa desiderate? Questo è un jackpot, ragazzi. 86 spezie vendute a 13.497. E quindi... Ci facciamo un milione già solo di spezia rossa. Allora io direi che possiamo verosimilmente... Anche senza verosimilmente... Andiamo a comprare quel pianetuncolo là. Oddio, dobbiamo salvare il pianeta dal disastro ecologico. Che pianeta? Questo? Sì. 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 Sui ninjas. Sì. Sì. Ok, ho, ho, ho. Nù desis. Sì. Questa roba qua insomma Allora Ah ce n'è qualcun altro Qua nei paraggi Dov'è che è? Ah ce n'è un altro Ecco qua No bisogna andare In questa direzione Due Ok Perfetto Ma io non sono ancora contenti Ma Sono mai contenti sti tizi Ma in realtà sarei quasi quasi tentato Dall'aspettare di avere i 10 milioni E comprare questo pianeta qua Visto che ne abbiamo la possibilità No? Allora vediamo se qualcuno Abbiamo 25 di spezia verde Potremmo raggiungere No non riusciamo a fare 3 milioni solo di spezia verde Però No questo produce spezia verde Non compreranno mai della spezia verde Credo Qua però della spezia rossa Possibile che mi comprino la verde Vediamo No Vabbè niente di che Allora io andrei a questo punto A potenziare la nostra No andrei a ricaricare l'astronave Scusate un attimo Ma non si capisce più niente Mannaggia se fitto e denso Sta roba Non si capisce un Kaiser Allora io andrei a Ricaricare la nostra astronave Saluti Allora Per cosa volete la verde? No No non volete un Kaiser di nulla Arrivederci Allora noi andiamo A potenziare la nostra La nostra produzione di Spezia Viola Intanto abbiamo tutto Con noi Per poter Fare un T2 Allora Qua abbiamo Come siamo messi? Siamo messi con un'atmosfera Molto denso La temperatura dovrebbe andare bene Però Allora Dobbiamo diminuire L'atmosfera Con prepotenza Proprio Tra l'altro questo era già T1 Cioè Non abbiamo dovuto neanche Investirci troppo Per Oh A epox E' tempo che vola Continuano a picchiarsi Ok Perfetto Mo Allora Pianta piccola Allora Andiamo qua In questa zona qua Ok Pianta grande Vai per la pianta grande Ok Ok E la pianta media Ok Stabilizzato Punta giotti del pianeta Ottimo Ora Andrei su un posto Dove magari c'è un po' più di terraferma Per posizionare Per posizionare Gli animali Allora Animali Abbiamo bisogno di posizionare Due erbivori Due erbivori E un onnivoro Allora Un mozzo E qua E tornoci Allora Questo smerbo Che ci ha fatto girare Un'eternità E Salve E un onnivoro Mettiamo questo Devil Che è molto bruttino Ricorda un ragno Ma vabbè Perfetto Possiamo avere Delle colonie avanzate Ora Quindi andrei A piazzare Un'altra colonia Effettivamente Qua è Tutto 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 Oceanico Non è una bella cosa I pirati Stanno saccheggiando Il pianeta Pasilane Forse è quello Che abbiamo fatto Di recente Pasilane Allora Io avrei bisogno Però di sistemare Un attimo Quella situazione Prima Poi arriviamo Ma Farei così Intrattenimento E casa E poi Torrette Tutti intorno Ok Adesso andrei Dall'altra Che è qua Per sistemare Anche questa Carissima Situazione Allora Loro hanno Già Una buona Produzione Di spezia Anzi Loro hanno Anche due case Addirittura Eh sì Aspetta Io toglierei Una case E metterei L'ultima Torretta Allora Ok Perfetto A questo punto Allora andiamo A difendere L'altro pianituncolo Là Che ci stanno Attaccando Aspetta Ridammi La spezia Viola Volete qualcosa Vabbè La gialla A 14.000 Ci può stare Allora Allora Stanno 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 Scheggiando Il pianeta Pasilane Che è Qua No L'aeroblena Pasilane E' qua Arriviamo Cosa c'è Succeso Cosa sta Succedendo Ah no Quello Non è Aeroblena Quelli Sono Gli Ipox Che picchiano Il tempo Che vola Allora Arriviamo Subito A parte Che dovrebbero Sare Abbastanza Armati E Sono questi Qua Ma avrei Quindi Un piatto Di un laser Posso recuperare I soldi Dove sono? Give me The money Senza Prendere loro Magari Vabbè Ho preso Tutti Qua Anche Una pianta Che non mi Serviva Ok Gli altri Dove sono? Qua Ma qual è Che era? Missile Mega Impulso Bello Allora Accogliamo Anche qua E abbiamo Preso Un'altra Pianta Una miseria Dov'è Che Qua Stanno Toccando Ancora Dov'è Mi seguo Quel tizio Dov'è 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 andato? Dovrebbe essere qua Ma non lo vedo È uscito? Boh Possibile Vabbè Uno è scappato In realtà Ma Se loro sono contenti Così Va bene Così Detto questo I 10 milioni Non li abbiamo raggiunti Purtroppo Facciamo un ultimo tentativo Di vendere la nostra spezia verde Qua Volete dare la spezia verde? Spezia verde Freschissima No Cioè Sì Ma non ha tanto Niente È stato un piacere Quindi Io direi che Anche per questo episodio è tutto Noi ci vediamo nella prossima puntata Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Se per caso non lo avete ancora già fatto Io sono Mazziatess E vi auguro una buonissima giornata Ciao a tutti Ciao a tutti